Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Ovviamente potrei rispondere la domanda che va fatta. Bisogna chiedere a lui, certo. Detto questo, ma penso che quella del PD sia stata, come ho cercato di dire in due occasioni nelle quali ho parlato, una sconfitta politica più che una sconfitta elettorale. Perché se si guarda i numeri, il problema del PD è di tutti questi anni. Il PD aveva 12 milioni di voti quando è nato e adesso ne ha 5. Tra l'altro è interessante guardare come quei 12 milioni di voti siano corrispondenti a quanto ha preso il centrodestra in queste elezioni. E quindi credo che Letta abbia voluto con questo assumersi la responsabilità politica perché la sconfitta politica è evidente e abbia voluto cercare, speriamo che lo facciano, che non si mettano a discutere di chi fa il vicepresidente della Camera e del Senato o di altre cose di questo genere, ha voluto aprire nel PD una riflessione, una discussione che io mi auguro sia vera perché diversamente da tanti, questo è un paese in cui, come diceva il brindisi di Girella, di Giovanni Giusti, tutti hanno 10 o 12 coccarde in tasca. Per cui quando un partito perde non c'è cosa più facile è cominciare a sparargli addosso. Però è un partito del 20%, è un partito senza il quale l'intero sistema politico italiano va a gambe per aria. Allora, adesso torniamo sul PD perché insomma davvero ci sono molte cose che voglio chiederle e penso anche Goffredo. Però facciamo così, proviamo a prendere spunto dal libro di Veltroni, no? Storie che parlano di noi, le cronache del bene e del male, sono storie raccolte nel libro che ci aiutano forse anche intanto ad avere memoria e forse anche a leggere la realtà in un modo diverso, con qualche strumento in più. Perché la mia sensazione, completo la domanda, è che spesso noi A, ci dimentichiamo delle cose, B, non utilizziamo le esperienze che facciamo per leggere la realtà. Però chiedo. Guardi, ogni tanto mi domandano che differenza ci sia tra la vita che facevo prima e quella che faccio adesso. In realtà mi sono accorto che non c'è nessuna differenza. Nel senso che a me prima e oggi interessa sempre la stessa cosa, cioè la vita delle persone. Chi fa politica deve avere lo sguardo verso gli altri, invece oggi l'impressione è che molti abbiano gli occhi girati e guardino se stessi. E questo la gente lo capisce. E se non è la prima volta, è la seconda. Tanto è vero che quanti sono i partiti italiani che hanno preso un sacco di voti e la volta dopo ne hanno persa la metà. Perché le persone non sono stupide, capiscono quando tu gli dici apro il Parlamento come una scatola di sardine e il giorno dopo hai otto macchine blu e 42... Cioè la gente alla fine si rende conto. 6 su 10 non vanno a votare. Questo forse è il dato sul quale bisognerebbe fare la riflessione maggiore insieme ad un'altra che propongo a Goffredo, che è quella relativa al reddito. Noi abbiamo guardato con attenzione, adesso si stanno studiando i flussi elettorali, eccetera, e più poveri sono, più sono lontani dal Partito Democratico, o comunque una buona fetta, non guarda il Partito Democratico. Anche quello è un tema. Quando è che le periferie che tu hai indagato, conosciuto, raccontato, hanno perso di vista il Partito Democratico? O meglio, quando è che il Partito Democratico ha perso di vista le periferie? Guarda, è successa una cosa negli anni 10 di questo secolo. Da un certo punto in poi è passata la narrazione...